Musica Che bel gol Non mi sembra però Mi sembra che la tocca prima Che la tocchi prima di Mi schiamo Di fianco Anche secondo me è mano Anche secondo me è mano Eh si ragazzi C'era visto clamorosamente in diretta Eh Giorgio è inutile che proteste Ma che cazzo protesti Giorgio Io non riesco ancora a esultare ragazzi In questa parata Non ci riesco ancora Applaudiamo gli avversari Applaudiamo gli avversari Più forti di noi Applaudiamo gli avversari Più forti di noi Applaudiamo gli altri Migliori Migliori di noi Facciamo i complimenti a quegli altri Facciamo i complimenti a quegli altri È fine e fine facciamo i complimenti agli altri e fine è un gran gol questo tutti e due gol bellissimi 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 ragazzi non cambia quello che penso di Pirlo cioè quello che vi ho detto negli ultimi video non cambia cioè non si sposta da lì né vincendola né perdendola tra zero è quello lì ci rendiamo conto tra zero del Milan tra zero del Milan tra zero del Milan tra zero del Milan il Milan ci è venuto a dare il tra zero in casa nostra e se lo merita e se lo merita si merita di essere in vantaggio tra zero a casa nostra al Milan pronto? pronto non ho scontriato per la Champions il Milan si sta meritando si sta meritando il Milan di essere tra zero in casa nostra pronto? pronto così magari lo capiamo così magari lo capiamo dai Giorgio veramente dai Giorgio veramente dai Giorgio veramente non ci posso tre abbiamo buttato via anche il vantaggio del 3-1 dell'andata ma c'è ci rendiamo conto siamo scandalosi siamo scandalosi ciao ragazzi ci vediamo su Youtube premendo vergognatevi 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 chiedeteci scusa e vergognatevi grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri